Dallo scorso sabato è attivo a riposto il mercato del contadino. In via Marco Polo a Torre Archirafi il mercato dei piccoli produttori locali rappresenta una valida alternativa per quanti prediligono l'acquisto di prodotti a chilometro zero in cui si va direttamente dal produttore al consumatore. L'assessore al commercio Paola Emanuele ha spiegato ai nostri microfoni gli intenti dell'iniziativa. Per tutte le mattine, ovviamente i sabati del mese di aprile, dalle 8 alle 13 gli utenti, qualsiasi ovviamente cittadino, potrà recarsi presso lo slargo di via Marco Polo vicino ai campetti di Beach Volley per acquistare prodotti a chilometro zero. Questa iniziativa nasce in modo sperimentale in questo momento, in questa zona. C'è la volontà di dare continuità a questa iniziativa per l'appunto non solo nella zona in cui sussiste in questo momento, ma anche in un'altra zona della città di riposto, ovvero zona immacolata. Si tratterà ovviamente di organizzare, anche perché abbiamo già diverse richieste, c'è una risposta piuttosto favorevole, perché ovviamente il produttore ha interesse a far conoscere i propri prodotti, i propri metodi agricoli e quindi, perché no, il consumatore avrà la possibilità di conoscerli, di apprezzarli e quindi di acquistarli. Grazie. 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 Grazie.